Questa la mettiamo su internet? Sì www.navigli.it Ma io non devo commentare niente no? Ce n'è un'altra, mi chiedono quattro Ehi, se non c'è su No, la sono trovata 29 Devo dire qualcosa Ecco, biciclette rubate da qualche imbecille E buttate nel naviglio che stanno Che sono state recuperate E poi uscire un altro po' Più il redding Cosa che nessuno ha fatto Questa è una prima visione ragazzi E' istitutiva Non mi sto raccomando Si ciclissi sui manciapieni Voi lo sapete ma c'è La pagina Facebook Dove in bici perché Questa c'è Tutta la bici Ci sono Oh luna La pagina è la pagina Che l'ho dico oggi 5 luglio 2016 a milano ore 12 e 45 aspetta arrivo chiudo va bene va bene ciao ciao